E' così che si gira un film! Non vi è piaciuto? Fermiamo le riprese. Piano B. Sì, piano B. Finiamo il montaggio dalla zia di Mark. Scusa se ti assilliamo, Denise. Questo film non è un tuo problema, ma... Dovete essere pazienti e aiutarlo a trovare la sua strada. E' un documentario su una formica. Non fa altro da due giorni. Si avvia un progetto come si avvia un'auto d'inverno. Coach! Il libro delle soluzioni. Cos'è il libro delle soluzioni? Il libro delle soluzioni doveva essere una risposta a qualsiasi conflitto. Il mio capolavoro. Mi ero fermato al titolo. Dai avvio a un progetto. Fa quello che vuoi. Benvenuta nel tuo camiontaggio. Se vuoi andare avanti veloce... E per tagliare? Il clacson. Imparare facendo. Il tuo film sembra molto bello. Lì dietro staranno i produttori. E così non vedranno niente, però. Esatto, è quella l'idea. Una cosa mai vista. Se non si è mai vista, forse è perché non è una buona idea. Dovrete interpretare i miei gesti. È molto semplice. Si sistemerà. Starai bene, vedrai. Certe vittorie sono così eclatanti che non hanno bisogno di commenti. Certevi e domande dovresteüş Grazie a tutti